E' bello a tutti ragazzi, sono Stefano Belli, DSM che è una bella e benvenuti in questo nuovo epico video ragazzi, ciao a tutti! Allora ragazzi, questo è un video veramente epico, come sempre ovviamente, un nuovo video epico ragazzi, in questo video farò una cosa molto inaspettata, cioè voi quando avrete letto il titolo dite ma Stefano perché? Beh ve lo spiegherò subito perché, praticamente ragazzi avete letto dal titolo che oggi andrò a ricantare per la seconda volta la canzone rapide di Mahmood, ma voi appunto vi chiedete perché, perché la vuoi ricantare se l'hai già cantata? Ve lo dico subito ragazzi il motivo, il motivo è perché non mi ha soddisfatto, assolutamente lo so, questa cosa è molto triste, però diciamo che la prima canzone che ho provato a cantare è appunto Rapide di Mahmood, però se la risentite diciamo che non è proprio il top, diciamo non avevo messo tanto bene il sottofondo musicale, la voce stonava un po', c'era qualche problema, quindi ragazzi oggi sostanzialmente l'andrò a ricantare per la seconda volta per cercare di farla meglio, io ragazzi mi sforzerò al massimo, cercherò di impegnarmi tantissimo, quindi spero anche di stupirvi perché mi sono veramente tantissimo allenato in questi giorni con la voce, con le cose, quindi ragazzi spero di stupirvi come ho fatto anche con la canzone di Tiziano Ferro quella senza scappare mai più, spero di fare la stessa impressione perché ho visto che quella canzone ha fatto un sacco di successo, quindi vi ringrazio di cuore per tutti i bellissimi commenti che mi avete lasciato e niente ragazzi, quindi direi di iniziare subito e provare a ricantarla il meglio possibile e tra l'altro con un oggettino che adesso vedete, una cosa segreta, adesso lo vedete nel video e capirete tutto, ok iniziamo Puoi stare in ore a chiedermi di non andare fuori dallo, o forse era un altro locale sono un po' strano, ti amo solo quando veniamo quindi perché mi sputtano in giro, dimmi cazzone, sai di me provato a divertirmi, è una cosa comune dormire con altre persone forse non ci sarò, il venerio ad un'introsi che a me non risponderò mi ami dirmi di no, tra dire e far dire e ti prego non dire no ora che non ho niente mi difenderò dalla fiducia che non avevo e non ho dimmi cosa c'è le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'idea che scalerò, 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 scalerò come non lo so, dimmi te perché mi hai fatto scendere la merce adesso, prenderò il treno perché non so questa notte mi perdonerò, nelle tue ripide non cadrò cosa farai se alle spalle lascerai il rano, chi prenderà la stanza bianca al primo piano, non ci pensare il ricordo è peggio della lè chi pensa a quei pomeriggi all'anno fumando e cantando piano, mi chiedo se ricorderai nonostante i miei mille guai, mi chiedo se ricorderai con il solito paio di night dimmi cosa c'è le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'idea che scalerò, 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 scalerò come non lo so dimmi te perché mi hai fatto scendere la merce adesso, prenderò un treno perché le so questa notte mi perdonerò, nelle tue ripide non cadrò se ti chiedo di te al mio compleanno ti dici che sul mio ultimo messaggio c'è messo sopra una lapide quanti viaggi che ci mancavano, biglietti comprati all'ultimo lasciati sopra quel tavolo ora che ogni sera ho più la paura di dirti che ho la macchina padeggiata sopra casa non so di chi non era niente lo giuro ma come si può chiamare il futuro dimmi cosa c'è le vedo scendere, sono rapide chiuse nell'idea che scalerò, 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 scalerò come non lo so se vedi perché mi hai fatto scendere la merce adesso, prenderò un treno perché le so questa notte mi perdonerò nelle tue ripide non cadrò nelle tue ripide non cadrò eccoci qua ragazzi alla fine di questo video vedete ragazzi beh adesso lo levo sennò qua mi esplode tutto un po' giù qua che è meglio ok ragazzi avete visto che per cantare intanto ragazzi l'ho cantata benissimo cioè a parere mio è stata quasi uguale a quella vera veramente ragazzi dite qui sotto le vostre opinioni ma secondo me meglio di così non potevo cantarla mi sono sforzato al massimo ho dato tutto me stesso come sempre quindi di sicuro mi piacerà un sacco quindi spero che mi piacerà visto ragazzi per cantarla così bene mi sono anche leggermente fatto aiutare dal mio bellissimo microfono ragazzi guardate quanto è bello il mio nuovo microfono l'ho acquistato proprio oggi stesso cioè nel senso oggi stesso mi è arrivato però l'ho acquistato circa due tre giorni fa da amazon veramente buonissimo guardate quanto è bello tutto rosso cromato cioè veramente spettacolare con tutti questi pulsantini devo dire che mi ci trovo veramente benissimo cioè in realtà ragazzi la voce ovviamente è la mia l'unica differenza è che grazie a questo microfono si diventa un po' più forte un po' più musicale però comunque ragazzi sono veramente io che sono bravo non è che ci sono trucchi non c'è autotune non ci sono trucchi di questo tipo quindi sono veramente un cantante ok ragazzi quindi spero che vi sia piaciuta e sappiate che la prossima canzone che canterò è ovviamente Ceneri di Lazza ve l'avevo promesso quindi non posso dirvi di no sarà Ceneri di Lazza stavolta proprio senza nessun dubbio e poi dopo di Ceneri di Lazza ne farò anche un'altra però dopo di quella ragazzi che non vi spoilerò torneranno i video quelli normali di challenge video che ne so horror di vario genere ok va bene spero ragazzi che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con nuovi epici video guardate che bello che si illumina pure vabbè ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao